Sì, mi dicevano le persone addette che non hanno fatto in tempo aprire che c'erano già quattro persone che hanno chiesto informazioni e notizie. È rivolto anche ai turisti, per cui ci sono degli ocluscoli anche nelle varie lingue. È un momento in cui la nostra sanità ligure dà delle informazioni importanti nel periodo del caldo e un presidio importante. C'è un numero verde per tutta la regione dove chiamare nel caso in cui dovesse arrivare quel caldo torrico che mette a rischio la salute delle persone. Certamente le persone più a rischio sono i nostri anziani, nella fascia di età over 75 in particolare. Per queste persone bisogna fare particolarmente attenzione. Tant'è che quest'anno rispetto agli altri anni abbiamo anche con la S3 e con il direttore generale dottor Bottaro anche avviato il servizio di guardia geriatrica presso le residenze sanitarie. Con un servizio di guardia medica dedicato alle residenze sanitarie in modo tale anche da non comportare l'arrivo delle persone al pronto soccorso se ci sono questioni inerenti in caldo.